3 pick, ma quanto hai fatto? Che livello hai fatto? Oh, questi sono i primi premi della VL di quest'anno. Dai c'è sto Alan, dai. Vabbè, Milinkovic, Savic. Ci fottiamo. Poi, Klaus, non è male. Altro picchetto. Oh, leao! Beh, si è via leao. Questo è il mostro, eh. Buono. Nice. Buono. 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 Grazie a tutti.